ragazzi buongiorno undicesimo turno del campionato mondiale di scacchi 2021 carson ne poniamoci ne poniamoci col bianco tutti i commenti li farò alla fine vediamo la partita velocemente 4 e 5 nepo cambia e sceglie l'italiana che notoriamente non da granché al bianco la domanda dovrebbe essere cosa da qualcosa al bianco in questa variante ma perso per perso ma trovati una variante del gambetto di re della viennese fai fai qualcosa passa di 4 a 4 no contro un esperto di 4 e 5 giochi le cose che stanno ti quanti e va nel gioco piano vabbè benissimo benissimo pensi di superarlo in posizione va bene va bene qua tutta teorica ci sono un sacco di mosse che rientrano e più che altro è uno schema è un pattern se voi ci fate caso a tutti gli effetti il bianco ha messo l'alfiere in quella che era diagonale italiana doveva a finire nella spagnola dopo alfiere b5 a6 alfiere a4 b5 si rientra in schemi tipici della spagnola evitando un sacco di linee e con molta diciamo capacità manovriera arrocco ora la mossa più giocata di solito qua a6 fiere b3 queste sono mosse che bisogna fare alfiere 7 poi qualcuno potrebbe dire perché bisogna fare queste mosse e ci dovrei fare un video dedicato ma fondamentalmente il fatto è che il bianco deve sviluppare i pezzi senza dare al nero la possibilità di per esempio spingere in d5 con guadagno di tempo se io mi trovo l'alfiere già qua e per esempio il nero spinge in d5 e io non voglio catturare in d5 ho la possibilità di fare donne 2 a cui potrebbe seguire di perè di perè con colonna aperta per il nero ma che poi il bianco prenderà con torre 1 con torre di 1 per fare un esempio se invece mi trovo l'alfiere qua è ovvio che su d5 alfiere b3 presa presa in e4 perde il pedone e4 tutto chiaro spero quindi alfiere 7 torre 1 h6 cavolo di due questa vi faccio vedere una variante molto molto aggressiva per farvi capire come il nero ritardando l'arrocco si butta letteralmente addosso al re bianco approfittando del fatto che il bianco è stato un po troppo come sul dire mano virero con possibilità per entrambe le parti anche se dei pazzi scatenati come sottoscritto preferiscono il nero carcer che come al solito per tutto il match ha sempre provato cose nuove gioca a 5 cambia poco ma ci sono delle sottili differenze posizionali torre 1 alfiere a7 cavallo a3 ma qualcuno potrebbe dire con l'idea visto che tu abbandoni la classica manovra spagnola cavallo d2 cavallo f1 cavallo g3 con l'idea cavallo b5 chi lo scaccia più quel cavallo da b5 facciamo un esempio dopo l'h6 di carcer che perlomeno è una mossa abbastanza conosciuta per evitare in futuro un cavallo g5 qua potevi giocare cavallo b5 alfiere a3 e perlomeno c'era quel cavallo incureato in territorio nemico si sfrutta almeno il vantaggio che il nero ha fatto a5 ma no no cavallo c2 benissimo va bene rocco fine 3 presa presa torre 8 qua il nero deve sfondare adesso al centro giocando sul fatto che il bianco c'ha ancora un pedone che sta in d3 e non in d4 a4 vabbè che serve non lo so io avrei fatto cose più immediate anche un h3 una cavallo h2 cavallo g4 mosse più tematiche non mi pare necessario al momento a4 fine 6 presa presa donna b3 forse che se non faceva a4 si spaventava adesso di a4 del nero altri misteri potrebbe darsi potrebbe darsi tutto questo grande piano b6 ora quantomeno va allevato fra poco il cavallo da c6 che è debole in difeso torre a d1 cavallo h7 h3 grande piano donna d7 sulle case chiare cavallo h2 torre d8 il nero ha sviluppato tutto tranquillamente preparato per stingere in d5 calo di h in g4 presa ma perché non prende di cavallo per esempio d5 presa 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 f1 cavallo f5 composizione pari ma mi sembra che il bianco abbia un microscopico vantaggio in più invece no prende di pedone d5 d4 presa presa ora perché non si può prendere di cavallo se prendiamo di cavallo torre per d4 e semplicemente si perde un pezzo perché la prossima segue c4 ma è tutto normale perché su torre 4 semplicemente quel pedone cascherà per forza di cose non c2 cambia poco torre f5 ora attenzione il torre f4 volevo dire attenzione siamo qua al punto che conclude la partita una variante ovvia e logica sarebbe stata torre per d4 torre per d4 c per d4 cavallo per d5 presa 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 per esempio qua che è una menzione praticamente pari il bianco bisogna stare leggermente attento perché su una semplice torre 7 che sembra molto attiva torre f8 il nero sa leggermente meglio perché già sta attaccando due pedoni ma basta giocare un po accorti e questa è una posizione ovviamente pari al nero carse sta benissimo si avvicina al capito mondiale di altro mezzo punto al bianco te la sei cercata e giocato questa variante e te la suppi tanto per tutto il match non hai saputo fare altro ma invece no invece no perché nepo si inventa la genialata e secondo me qua scusate io non so più che cosa dire io finora ho visto le cose più incredibili cercando di spiegarle con processi psicologici o meglio psichiatrici e ci può stare che in una partita fai una grande cazzatona e perdi pedone partita e capisco malapena con grandissimo ma grandissimo sforzo che la partita dopo mi metti un pezzo sotto non lo so avrai problemi con la ragazza sei crollato psicologicamente tua madre non ti parla più il tuo cane gay non lo so non lo so non lo so mi dispiace mi dispiace davvero non lo so ma qua g3 ora mi potete dire quello che volete ma io sono convinto che anche una seconda qua giocherebbe di per e tre e io sono straconvinto ma straconvinto scusatemi mi dispiace ma è così che questa conscia o inconscia sia una decisione di farla finita qua ne volevo più vuole fare finire la tortura se ne vuole andare a casa dal suo gatto dal suo cane non lo so o dai genitori e dalla mamma a piangere non lo so qua di sicuro se ne vuole andare io non so se ora saranno obbligati a giocare le rimedi partite se invece si conclude qua ma questa è una mossa del tipo basta 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 ti prego basta qualunque cosa perché finisca non c'è altra spiegazione ovviamente d per e3 presa presa e di colpo come tutti i computer dicono qua il bianco si ritrova a meno 7 meno 8 e anche in maniera abbastanza semplice per esempio donna h1 donna h3 re g1 presa torre d6 finita oppure come ha giocato nevo re f1 donna h3 ovvia non si può re e due per semplicemente e per f2 se prende di re c'è l'infilata in h2 della donna deve spostare la torre poi segue la normale cavallo f5 minaccia cavallo g3 e anche torre 8 ed è tutto di nuovo finito quindi su donna h3 bisogna giocare re g1 mamma mia che brutta fine che ha fatto strazzi mamma mia ora qua non si sa come va carsen anche lui diciamo non si è avuto a faticare non ci posso credere che un normale carsen non abbia visto la cosa più semplice ovvero e per f2 donna per f2 torre d6 vince istantaneamente non ci posso credere o sarà entrato in modalità super security o il match mondiale a portata di mano o è tranquilli non lo so non lo so fatto sta che ha giocato canale f5 che certo e mantiene sempre un vantaggio stato sferico ma secondo me torre d6 torre g6 era molto più facile ed evidente d6 per evitare torre d6 anche qua era meglio giocare adesso donna g4 che vinceva prima carsen si è voluto diciamo allungare un po la suonata ma cambia poco e uno come lui decide di andare in un finale per lui magari è pilota automatico stravinto sicuramente con pedoni in più passato però io sono giocatore d'attacco io avrei semplicemente dato dato matto a re bianco punto per lui magari questo è chiudere la partita è talmente disumano e talmente macchina nello giocare che per lui andare in questo finale vuol dire non c'è modo al mondo che io non vinca e ci credo diventa tutto forzato e questo finale che vi dicevo appunto è completamente perso per il bianco al di là del pedone in meno motivazione la torre ha la colonna dominata può entrare in settima il pedone h è passato e gli altri penoni sono difficilmente sostenuti per esempio rf3 se no si doveva giocare l'orribile torre 2 per dire una cosa oscena torre d2 torre b1 mamma mia ma io vedo queste cose a un campionato mondiale rendetevi conto g6 carsen qua gioca come ho detto sempre quando ha un vantaggio per lui ovvio entra in modalità stockfish non so cos'altro tiro alfazzino gioca come una macchina e non ne sbaglia una una cosa impressionante la capacità con cui questo ragazzo gioca ai finali è a livello di macchina di macchina con table base aggiungo manco a dirlo gioca tutte le migliori tutte e poi il giochetto finale torre b3 ma anche qua c'è ci sono tante mosse che vincono ma ce n'è una che stravince su tutti donne 4 lui la trova anche qua ci sono mosse che stravincono ma ce n'è una che stravince su tutti lui la trova anche qua ci sono mosse che stravincono su tutti pare incredibile ma il bianco in suzu anche lui trova anche quella reggi 7 e torre b6 qualcuno potrebbe dire giochiamo donna di nuovo donne 4 qualcuno potrebbe dire donna scacco no anche qua la migliore una macchina ora signori questo match era iniziato bene con nepo che teneva il punto fino a quando non siamo arrivati alla sesta partita dove nebo è completamente crollato psicologicamente nella più lunga partita che si sia mai vista un match mondiale quello che è successo dopo è andato prima nel campo della tragedia poi della tristezza e oggi siamo arrivati alla farsa veramente dispiace qualcuno non mi crede quando dico che questo ragazzo dovrà fare di tutto per recuperare la carriera forse voi non mi rendete conto come funzionano gli scacchi mondiali ma quando io organizzatore devo invitare qualcuno ai miei tornei dove prenderà soldi anche arrivando decimo dove io gli pago il vitto e l'alloggio e tutto quanto e sono professionisti ma a me non mi obbliga mica nessuno a meno che non sia un torneo ufficiale fide nel senso campionato del mondo o candidati a invitare in base all'elo io posso invitare chi cavolo voglio solitamente invito il mondo ma a me per esempio di invitare un nepo che gioca così al prossimo torneo ma chi me lo fa fare in questo momento oltre carson tutti vorrebbero invitare firucia ma è ovvio è il più fuori secondo al mondo anche e è il più giovane al mondo e un talento sì certo ma perché perché fa notizia e la notizia attira spettatori e sponsor e io che organizzo il torneo voglio quello quindi uno che perde così in questo modo la più grande occasione della sua vita ripeto alla carriera rovinata carruane non ha avuto la carriera rovinata ovviamente neanche cariachini per quello che vale ma questo sì questo sì perché non si può a questi livelli non si può non è ammissibile ragazzi spero che abbiate apprezzato l'impegno che ho dedicato per commentare velocemente le partite di questo mondiale non so forse sì se avrò tempo di ritornare alla normale operatività del canale per le feste di ritornare ad analizzare orribilanti partite di formaggi vari probabilmente sì e intanto faccio gli ultimi giorni di lavoro e poi mi godrò il degno riposo non tornerò più su questo mondiale per me il mondiale è completamente finito che dire ripeto solo una cosa che dico sempre e in continuazione c'è un atteggiamento insito dell'essere umano per cui appena qualcuno diventa re e si è tifato per lui e si è sperato in lui e si è voluto che diventasse re c'è un qualcosa del resto umano che poi fa di tutto perché quel re di colpo debba morire carsen può piacere o non piacere ma anche gli stolti si possono rendere conto che siamo di fronte a un qualcosa che va al di là della mera oggettiva mostruosa capacità di giocare che c'è questo ragazzo io da fan di kasparov dico per me carsen è già il god il più grande mai esistito non so se in futuro qualcuno lo sorpasserà ma vivere nel periodo del più grande giocatore mai esistito che gioca in continuazione che si dà in continuazione mi fa felice e voi tutti dovreste avere lo stesso motivo per essere felici vi prego ragionate su questa cosa ragionate a livello scacchistico viviamo in bellissimi tempi bellissimi proprio bellissimi gioite penso ci vedremo prima delle feste se non è così tanti cari auguri di buone feste a tutti pace serenità e siate dignitosi buone feste a tutti buone feste a tutti buone feste a tutti